Buongiorno a tutti voi e ben arrivati a quel che passa il convento, oggi siamo pieni di colori, buongiorno Don Domenico Buongiorno Virginia, buongiorno a tutti E buongiorno ai nostri assaggiatori, Sandra Bruscolini e Giuseppe Cantore Buongiorno Giuseppe è un famoso attore e Sandra è una blogger che ha un bellissimo blog dal titolo L'Officina delle Ricette E' vero? Quindi sono assaggiatori espertissimi Una puntata paurosa Sì, oggi veramente ci superiamo Secondo me ci litighiamo pure Vabbè, poi vedrai State già litigando? Eh sì, un pochino sì Uno viene dal sud e uno viene dal nord, dobbiamo essere uniti Eh ma in questo caso non lo siamo molto Sul cibo no perché... Sul cibo sta sempre da discutere Un po' Allora però vediamo se siete d'accordo sulla ricetta di Don Domenico La ricetta del convento, quindi la ricetta del Don Domenico, quale sarà? Faremo il rustico di Suor Anna Il rustico di Suor Anna A proposito di litigare, no? San Benedetto dice che noi dobbiamo rendere sempre grazie a Dio per i doni che abbiamo ricevuto Il cibo è un dono, un dono indispensabile per la vita, perciò dobbiamo essere sempre contenti e uniti Giustamente, avete ragione Quindi per fare questo rustico di Suor Anna dovete rompere tre uova e che ci aggiungiamo Don Domenico? E quale ci aggiungeremo poi... Il sale ce lo metto? E il sale, sempre il sale ci vuole Un pizzico di sale Un pizzico ci vuole sempre Quindi lavorate le tre uova con un pizzico di sale e aggiungiamo la farina o l'olio? La farina Vado con la farina La farina sono 200 grammi di farina 00 Sai Virginia che mi sa che è l'unica ricetta questa su cui io e il mio compagno di viaggio andremo d'accordo Ce la divideremo da buoni fratelli Equamente Equamente Perché? Perché? Vedrai, vedrai Oggi è una puntatona Non perdere neanche un passaggio, un minuto Oggi incollati alla tv Ce l'hai la penna? Avete un... Eh sì Prendi appunti L'ho presa Eccola Guarda È sempre queste novità che io insomma vengo a scoprire sempre per ultima Vedrai Però mi fa piacere, mi fa piacere che sarà una grandiosa puntata Soprattutto succulenta? Molto Succulenta Va bene allora Don Domenico Succherina io direi Succherina Giusto così Don Domenico ma quanti indizi ci stanno dando? Allora avete aggiunto dopo la farina anche... Anche l'olio di semi L'olio di semi Un bicchiere di olio di semi E poi c'è del parmigiano Parmigiano A occhio Giusto? Sì, aggiungeremo anche il latte Il parmigiano Il latte, quindi mezzo bicchiere di latte E questo è l'impasto Vi do una cucchiarella così fate prima E poi aggiungiamo anche il lievito salato? Anche il lievito istantaneo questo Ecco qui Il lievito per salati E poi tutte queste buone cose che mi avete fatto tagliare Allora Aggiungiamo gli ingredienti Anche le zucchine Un po' di olive che non ci stanno male Ecco tutti questi sono doni di Dio Doni di Dio Come dice San Benedetto Dobbiamo ringraziare il Signore per i doni ricevuti Ecco qui Allora prendo uno stampo Ho preso uno stampo da plunchai che può andare bene? Va bene, sì E mettiamo dentro il... Ma questo si può fare anche con dei salumi? Che dite? Certo Vero? Voi ovviamente vegetariano Perché siete il re dell'orto Sì, sì Siete il re dell'orto È più digeribile come l'abbiamo fatto noi Sandra, sul tuo blog ci sono dei rustici fatti così con le verdure? Ce ne sono diversi perché comunque piace molto Si può riutilizzare tutto quello La carotina che ti è avanzata in frigorifero La zucchina E un po' di spinacino Qualsiasi cosa che è in frigorifero Che sia verdura Che staziona lì La metti in un plum cake e ci fa cena Ma non si possono nulla? Sì, come no, anzi Salumi? Come no? E verdure? Certo che sì Viene anche più saporito La base è sempre uguale Bisogna cambiare i vari ingredienti Allora Don Domenico Inforniamo a che temperatura e per quanto tempo? A 180 gradi per una mezz'oretta 180 gradi Circa mezz'ora Sentiamo la nostra musica Cosa ci suggerisce? Don Domenico Ma questa è una tarantella Sembra una tarantella figiliana E ben arrivato Allo nostro ospite di oggi Buongiorno Buongiorno Sento un profumino uscire da questa scatola Hai perfettamente ragione È vero E benvenuto a Vincenzo Cinardo Che viene da Mazzarino In provincia di Caltanissetta Dalla nostra bellissima Sicilia Fammi indovinare che cosa c'è qui dentro Non potevano mancare È vero Un siciliano ospite Un siciliano ospite Che cosa poteva mai portarci signori assaggiatori Io un'idea ce l'ho Il classico intramontabile I cannoli siciliani Insomma ma guardate questi Non sono i soliti cannoli Questi sono proprio un'opera d'arte Vincenzo Questi sono stati fatti da te Con le tue mani Dalle mie mani Con le tue mani E dai nostri collaboratori E quindi proprio una squisitezza E un profumo Io ho capito perché loro avevano intenzione di migrare Avevo intuito Avevo capito Allora sai che c'è Vincenzo Questi ce li teniamo proprio qui nascosti Guarda No non vi preoccupate Perché tanto Vincenzo farà delle ricette spettacolari Perché lo posso dire Tu sei uno dei pasticceri più famosi della bella Sicilia È la verità Dai giovane e bravissimo Molto preparato E allora facci vedere la tua prima ricetta Cosa facciamo? Oggi vi preparerò un tiramisù in barattolo E al caramello Caffè e nocciole Pralinate Allora un tiramisù al caramello E vi assicuro che non è il solito tiramisù Quindi signori a casa Carta e penna Non perdete un passaggio di questa ricetta Perché altrimenti non la potrete rifare a casa Ed è un peccato vero Allora Gli ingredienti per fare il piatto da non perdere Sono questi Per il caramello al caffè Vi dovete procurare 312 grammi di panna liquida 105 grammi di zucchero 30 grammi di glucosio in polvere 15 grammi di burro 2,5 grammi di caffè solubile 2,5 grammi di caffè in polvere E un pizzico di sale Allora io sono curiosissima di imparare le arti della pasticceria Signore potrete fare un figurone incredibile Come si fa? Allora iniziamo a caramellare lo zucchero Sì Andiamo Andiamo Don Domenico portiamoci tutto Quindi prendiamo un pentolino E facci vedere come si fa il vero caramello Questo è un caramello salato Vincenzo Questo è un caramello salato Che tra l'altro va anche molto di moda signori assaggiatori Un tocco di sapidità in più Sì, sì E voi lo sapete Sandra sul tuo blog Sì Lo usi il caramello salato Per diverse preparazioni Ed è buonissimo Ma che fai con carta e penna? Eh no niente 30 appunti Lo fa per me Lo faccio per lui Per me Per lui Va bene va bene Allora intanto preriscardiamo il pentolino Sì E così facilitiamo anche la caramellizzazione dello zucchero Sì E dividiamo lo zucchero in tre parti Quindi andiamo giungendo poco alla volta Così Quindi aggiungiamo una parte dello zucchero Quindi lo facciamo caramellare Sì Una volta che la prima parte di zucchero Quindi del saccarosio è caramellata Aggiungiamo il glucoso in polvere Ah benissimo Spiegaci un po' Perché il glucoso in polvere? Cioè noi siamo abituati a fare il caramello Io lo faccio facendo il caramello E lo zucchero nel tegamino Ho fatto il caramello Questo invece tutte queste Allora il glucoso in polvere Diciamo che è un polisaccaride Ed è ricavato da peridrolisi Quindi la parte enzimatica Dell'amido E lo utilizziamo perché nel nostro tiramisù Vogliamo ottenere un caramello morbido Morbido Quindi ha un potere Una doppia funzione Di anticongelante E di abbassare anche il punto di dolcezza Diciamo che ho capito fino ad un certo punto Perché proprio sai Posso dire Don Domenico Lui non è solo un semplice pasticcere Lui è un professore vero della pasticceria È vero Vincenzo? Perché tu l'hai proprio studiato Hai fatto corsi Master all'università Insomma veramente siamo di fronte A un professionista vero Quindi hai aggiunto cosa? Sì aggiungiamo l'altra parte ancora di zucchero Pian piano Così evitiamo di formare dei grumi Sì un poco alla volta Quindi evitiamo di formare dei grumi All'interno della nostra pentola Un altro poco Il glucosio Vincenzo Si trova facilmente anche nei supermercati Nei negozi alimentari? Allora si sta cominciando a trovare Nei negozi e anche nei supermercati Magari non ce l'hanno tutti Però pian piano si sta inserendo Questa famiglia di zuccheri Proprio per Perché anche le Casalink Stanno aumentando la propria cultura Sì 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 Nel campo della cucina Adesso proprio alle signore piace tanto Sandra confermami Piace cucinare Fare questi dolci un po' più sofisticati Un po' particolari Mi piace sperimentare È vero sperimentare E quindi anche con ingredienti Che non sono proprio quelli usuali Che abbiamo nella dispensa Quindi andare a fare una spesa Per fare È divertente Che ne dici tu? Beh molto Io caramellerei tutto È vero anche io Don Domenico Cosa ne pensa? Vabbè intanto Diciamo Oggi Nei grandi Supermercati Si trova tutto Quindi non dobbiamo più preoccuparci Di andare in negozi specializzati Perché troviamo tutto Allora siamo pronti per inserire il glucosio Ecco quindi una volta Aggiunto lo zucchero Un po' alla volta E aver ottenuto questo colore brunito dorato Aggiungiamo il glucosio Il glucosio che abbiamo detto Serve per rendere il caramello morbido Sì Una volta che Gli zuccheri si sono sciolti Andiamo a decocere Quindi la cottura Con del liquido In questo caso Utilizzeremo una panna Una panna Al 35% di materia grassa Ovviamente La panna va riscaldata prima Sì Intorno ai 50-60 gradi Per evitare uno shock termico All'interno del Benissimo Allora andiamo quindi a bloccare la cottura Blocchiamo la cottura Inserendo in due o tre parti Il liquido E allora Aggiungiamo la panna E nel frattempo Perché io sono proprio curiosa Di scoprire questo caramello Che è un caramello Se vogliamo il caramello semplice Ci fermiamo qui? O ancora no? Sì sì La cottura del caramello Termina con l'aggiunta del burro Quindi se volete Aggiungete 15 grammi di burro E avete un caramello salato Perfetto Ma noi lo vogliamo al caffè Per fare questo tiramisù E allora io sono sicura Che voi non vedete l'ora Di ritornare qua Ho fatto quasi una poesia Insomma non lo so Ci vediamo tra poco Assaggiatori E ballate un po' con me Qui siamo in piena Sicilia E stiamo cucinando Con uno dei più grandi Pasticceri siciliani Dobbiamo essere al settimo cielo Anche perché io non vedo l'ora Di affondare il cucchiaino Nel caramello salato Tu me lo permetterai Di pulire la pentola Vero? Pulirai la pentola E allora Abbiamo fatto finora Il caramello Facendo quindi Mettendo a caramellare 105 grammi di zucchero Abbiamo aggiunto poi 300 grammi di glucosio In polvere Per mantenere Il caramello morbido E poi Hai bloccato la cottura Con 312 grammi Di panna liquida Calda Per non bloccare Per Per Diciamo non avere Uno shock termico Di un liquido freddo All'interno Ecco che io sto imparando Tu correggimi Ok Adesso siamo tornati A bollore E aggiungiamo le polveri Quindi Due grammi di caffè Due grammi e mezzo Di caffè solubile E due grammi e mezzo Di caffè in polvere Quindi una volta sciolto Aggiungiamo il burro Vero? Facciamo raffreddare un po' Lo facciamo raffreddare Quindi Don Domenico Vi vedo particolarmente Attento oggi Secondo me anche voi Avete un po' questa passione Della pasticceria Andate al convento E fate felici i confratelli Anche perché Vincenzo Ci sta facendo Diciamo Una bella lezione Questa è una lezione Signore Gli occhi puntati Puntati Io pensavo proprio Alla meditazione Che generalmente Noi monici Ecco facciamo Quando Cioè noi Abbiamo di fronte Un pezzo Della sagra scrittura No Non lo esauriamo Tutta una volta Ma piano piano Cominciamo Leggiamo una frase Poi Ecco andiamo avanti Poi ritorniamo indietro No Ecco Per approfondire Sempre di più Per arrivare poi Al concetto Principale Sandra Mi raccomando Impara Don Domenico Impara l'arte Mettola la parte Attenzione No Si è fermata Si è fermata Non scrive più niente Sandra Non stai prendendo bene Gli appunti Ma che figure Che figure ci facciamo Io vorrei Vi prendo subito Rituale Vorrei avere un tocco Di sapidità Sì Quindi aggiungiamo Un po' di sale Ed ecco il caramello salato Un tocco di sale Allora Aspettiamo adesso Che il caramello Si raffreddi E andiamo a preparare La base Del biscotto Quindi Non è il solito Diciamo tiramisù Che si fa con i biscotti Insomma Comprati Ma andiamo a preparare Proprio dei biscotti Quindi io vi do Gli ingredienti Per preparare Il biscotto Al cacao Procuratevi 330 grammi Di uova 120 grammi Di zucchero 52 grammi Di farina 00 Una bacca Di vaniglia 38 grammi Di cacao In polvere 15 grammi Di miele 25 grammi Di acqua E basta Allora E poi dello staccante Per la pentola Iniziamo a montare Le uova Precedentemente Riscaldate Perché le uova Quindi vanno portate Almeno a temperatura Ambiente Quindi 21 gradi Non da frigo Quindi perché bisogna Averle a temperatura Ambiente Vincenzo Diciamo che Avendola a temperatura Ambiente Diamo la possibilità Alle proteine Di incorporare Aria Con più facilità Quindi i dolci Si fanno Sempre con le uova A temperatura Ambiente Ok Li sbattiamo Con lo zucchero Sì Allora Iniziamo a Diamo la prima montata E inseriamo lo zucchero Poco alla volta Quindi sbattiamo 330 grammi di uova E 120 grammi di zucchero Un poco alla volta Giusto? Sì Abbiamo sbattuto Le uova Con lo zucchero Cosa facciamo? Allora Andiamo a mettere La parte aromatica Del nostro biscuit In questo caso Utilizziamo La bacca di vaniglia La bacca di vaniglia E andiamo a privarla Dei semini All'interno La nostra polpa Allora Quindi mettiamo I semini di vaniglia Stiamo facendo Un biscotto morbido Sì Un biscuit Quindi una sorta di arrotolato Benissimo Poi Dopodiché Inseriamo Il miele Il miele Abbiamo 15 grammi di miele Finora abbiamo lavorato 330 grammi di uova Con 120 grammi di zucchero Io vi ripeto tutto Sì 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 Sandra non perdere nulla Poi Mi raccomando E aggiungiamo L'acqua 25 grammi di acqua Ok Iniziamo Nuovamente a montare Ecco qui Abbiamo quindi Duplicato Anche di più Anche di più Il composto Adesso cosa facciamo? Aggiungiamo Farina e cacao Miscelati precedentemente Benissimo Ecco Lo aggiungiamo Un poco Alla volta E signori assaggiatori Com'è il rustico Di Don Domenico? Spettacolare Un profumo Inebriante Veramente Peccato che è un po' caldo Dobbiamo aspettare Ma è buono pure caldo Vero Don Domenico? Allora Noi ci metto una fetta Va bene Attenzione a non scottare Vai vai Facci vedere Sandra Tu che sei un'esperta Di questi rustici Dimmi pure Ti aiuto Per quello che posso Vedi Ecco appunto Ecco qua Com'è? Eh? Ne è valsa la pena? Buono? Molto bollente Allora voglio vedere I vostri volti Dopo che avrete assaggiato Il tiramisù di Vincenzo Allora A questo punto L'impasto del biscotto È pronto Cosa facciamo? Andiamo a versarlo Nella nostra teglia Sì Quindi lo versiamo Nella teglia Dove Vincenzo Ha messo La carta forno E sopra Ha messo prima Lo staccante E poi la carta forno Per non far muovere La carta forno Sì Chi a casa Non usa lo staccante Può usare l'olio Il burro Sì può utilizzare Anche dell'olio Questo ci servirà Appunto Per far aderire La carta da forno E quindi In questo caso Avremo un prodotto Più lineare Quindi scusami Vincenzo Questa è la base Di quei classici rotoli Che si fanno Insomma Anche ripieni di creme Giusto? Sì Quindi questa ricetta Può andare bene Anche semplicemente Per un rotolo Di quelli che Si fanno sempre Anche a casa Però avrete un rotolo Vero Di quelli proprio Fatti in pasticceria Don Domenico Guardate come scivola Questo mamma mia Sembra veramente Velluto Complimenti Vincenzo Allora Informiamo A che temperature Per quanto tempo? 220 gradi Per 6 minuti 220 gradi Per 6 minuti Andate Don Domenico E noi andiamo A preparare La bagna Sì Allora Per la bagna Vi do subito Gli ingredienti 100 ml Di caffè espresso 80 ml Di acqua 160 grammi Di zucchero E basta Allora Facciamo questa bagna Al caffè Da pasticceria Come si fa? Io porto il caffè Andiamo Il caffè è freddo Deve essere? Sì È differente Ecco Non mi volete Un goccio di caffè? Se si toglie Anche solo Un mezzo grammo Potrebbe non venire bene La ricetta È vero? Siamo molto tecnici Siamo molto tecnici Allora Iniziamo Mettiamo Facciamo uno sciroppo Quindi Acqua Acqua È importante prima Mettere l'acqua E poi lo zucchero Quindi 80 ml Di acqua E 160 di zucchero Esatto Andiamo a mescolare Sì E portiamo A bollore E si porta a bollore Perché si deve mettere Prima l'acqua E poi lo zucchero Perché se facciamo al contrario Rischiamo che lo zucchero Non si va A sciogliere E si vada Diciamo ad attaccare Nella parte Sottostante Nelle pareti Non ho capito una cosa Però Questo passaggio Va fatto con L'acqua fredda O? No Acqua fredda Perfetto Malissimo Scusa Acqua fredda Me lo sono perso Domande lecite Noi stiamo chiedendo proprio cose che a te sembreranno da asilo No ma Questo si va ad inserire non appena lo sciroppo è pronto Appena lo sciroppo è pronto E allora nel frattempo vogliamo concludere il caramello salato Certo Aggiungiamo il burro Allora trasferiamo Che succede Peppe? Che succede? Forse in forno sta chiamando? Che succede? C'è il biscotto in forno? Sì Don Domenico vedete voi eh? Vedo subito Per favore non lo tirate fuori se non è ancora pronto perché poi Vincenzo lo sentite voi Poi Già mi stai etichettando È vero allora Anche in azienda dicono così Sì sì Già mi stai etichettando E allora raccontaci qualcosa anche di questa tua bellissima Dire pasticceria è riduttivo perché si tratta di una vera e propria azienda E intanto dici cosa fai Sì sono vessanto il caramello in una caraffa Sì E andremo ad aggiungere il burro Il burro Quindi dici un po' quando è iniziata questa avventura meravigliosa? Allora è un'azienda ovviamente dal 1956 Quindi siamo alla terza generazione Sì Intanto lo sciroppo è pronto Sì Lo tiriamo fuori Fuori Fuoco E andiamo a mixare Quindi mixiamo con un Con mini peeper Ah sì Senza far incorporare aria Quindi l'importante è che stiamo Deve stare fermo Sì fermo Io faccio sempre così Invece sbaglio Sandra ma pure tu Ma mi vuoi dire quando sbaglio e quando non sbaglio? Ma io ho sbagliato Perfetto Perché facevo uguale Pure io Io giravo proprio Tutto me E' meglio come fate voi tutto a mano Allora il caramello in questo caso ovviamente Ancora è una temperatura Diciamo più elevata Rispetto alla temperatura di utilizzo In questo caso è conveniente farlo sempre la sera prima Per l'intomani Allora quindi il caramello salato va preparato il giorno prima Anche perché così non vi stancate troppo O no? Troppi passaggi Troppi passaggi Allora adesso che facciamo? Aggiungiamo il caffè qui? Aggiungiamo il caffè qui Quindi aggiungiamo 100 ml di caffè espresso Diamo una mescolata Sì E abbiamo la bagna al caffè pronta Questa si può sempre preparare la sera prima Per l'intomani Ma voi vi rendete conto signore e signori Quando andate in pasticceria e vi prendete un pezzetto di tiramisù Quanto lavoro c'è dietro? Io no Non l'avevo mai pensato Allora adesso cosa facciamo? Perfetto Iniziamo ora in questo caso a preparare le nocciole pralinate E allora facciamo le nocciole pralinate E anche questo un procedimento da fare anche il giorno prima Si può fare il giorno prima E conservati in un contenitore ermetico Benissimo Allora serviranno questi ingredienti 250 grammi di nocciole in granella 25 grammi di acqua 55 grammi di zucchero 50 grammi di cioccolato bianco Allora facci vedere Quali sono le nocciole pralinate? Quelle che troviamo sui dolci? Nocciole croccanti Croccanti Vediamo Vediamo Allora iniziamo Sì Facendo sempre uno sciroppo Acqua e zucchero Acqua e zucchero Vai Acqua e zucchero ai fornelli Cosa aggiungiamo prima? Cosa aggiungiamo prima? Rispondi L'acqua L'acqua Ha detto bene Peppe? Sì sì Questa me la ricordo anche Mi raccomando eh professore tu adesso ci devi anche interrogare perché noi da questa elezione vogliamo uscire super esperti di tiramisù Non solo vi faccio notare che queste sono tante ricette come ci ha spiegato Vincenzo sono tante ricette messe insieme Quindi noi stiamo assemblando un tiramisù ma in realtà ogni singolo passaggio voi lo potrete utilizzare per tante altre ricette Anche assolute perché a chi è che non piacciono le nocciole pralinate col cioccolato signori miei già questo è un dolce Quindi vi stiamo dando un dolce che ne contiene 100 Quindi non perdete un solo passaggio Allora Don Domenico guardate come sta è a bocca aperta Quattentissimo Allora abbiamo realizzato il nostro sciroppo Tiriamo giù dal fuoco e aggiungiamo le nostre nocciole Quindi mettiamo Abbiamo fatto sciogliere lo zucchero Aggiungiamo le nocciole tritate Sì E questo quando? Questo non appena le andiamo a cuocere nuovamente in forno Ah quindi adesso le cuociamo in forno Sì A che temperatura? 180 per 10 minuti o fino a doratura Allora quindi mettiamo le nocciole su una teglia Giusto prendete la teglia Don Domenico Le mettiamo in forno a 180 gradi per 10 minuti E poi vi faremo vedere come si aggiunge anche il cioccolato bianco A tra pochissimo E siamo tornati con il nostro bravissimo pasticcere Vincenzo Cinardo Che ha una vera e propria azienda meravigliosa Una pasticceria a Mazzarino di Caltanissetta Che si chiama Ariston Ariston Dolci Proprio il massimo del massimo E ce lo sta dimostrando adesso con questo meraviglioso tiramisù Che è però un concentrato di tante piccole ricette speciali Adesso vi stiamo per preparare la crema inglese Occorrono 375 grammi di latte fresco 125 grammi di panna fresca E un grammo di sale E allora questi sono gli ingredienti Io devo imparare a fare la crema inglese Don Domenico guardate perché poi ve la faccio rifare pure a voi Allora Allora Io inizio sempre Sì Miscelando i tuorli Sì I tuorli solo Devono essere anche questi Solo i tuorli Temperature ambiente Solo i tuorli Sì I tuorli e lo zucchero Quindi Vi ripeto sempre il peso Abbiamo detto Lo zucchero quanto zucchero 100 grammi di zucchero 100 grammi di tuorlo Si lavorano insieme Quindi tu non li stai montando No So soltanto amalgamando assieme Amalgamando Amalgamando Quindi una volta mescolato lo zucchero con le uova Aggiungiamo il latte con la panna e mezza bacca di vaniglia Già è buona così Questa è buona anche a cucchiaiate Quest'ora va in cottura Andiamola a cuocere Ecco andiamola a cuocere E raccontiamo un po' la storia di questa azienda Quindi hai detto che è nata in che anno? 1956 1956 con tuo nonno Vero? Mio nonno Ludovico Ludovico Tuo nonno Ludovico Che però non faceva dolci No Non faceva dolci Cosa faceva tuo nonno? Era un agricoltore Però avevamo un'azienda di famiglia Con i collaboratori che Lavoravano proprio all'interno dell'attività E facevate però anche Avevate il forno Dei panificati Che cosa c'era? Sì lavoravamo molto sulla tavola calda Quindi siamo stati un po' gli unici in quell'anno A portare quello che era il salato all'interno del paese Poi nel corso degli anni Si sono susseguiti diverse figure all'interno Fino ad arrivare a noi che siamo la terza generazione Io con mio fratello Tu con tuo fratello Hai preso un po' spunto da tua mamma Diciamo perché ti piaceva vederla lavorare un po' in azienda Lei per un periodo ha collaborato in azienda Sì perché ho collaborato in azienda Io continuavo gli studi Ecco Quindi perché alla fine Stavo proseguendo studi totalmente diversi È vero perché tu hai studiato economia Insomma voleva fare tutt'altro Però aveva sempre sopita questa grande passione Per la pasticceria Che alla fine è emersa di prepotenza Insomma si vede Avevi proprio ragione Allora andiamo quindi a far addensare la crema Sia con una lecca pentole Per togliere quindi tutti i residui intorno E sia con la frusta per farla addensare E andiamo avanti Qui abbiamo fatto la crema inglese Che in realtà vedete che è abbastanza liquida Perché è una salsa È una salsa Poi lasciandola raffreddare Si addensa Si addensa Un poco di più E allora andiamo qui Cosa fate signori assaggiatori? Qui già si è addensata Voi sì Cioè vi siete presi Ma un assaggino Ma un assaggino Pure le nocciole Sì ma non un assaggino No no parole Sono riusciti a prendersi Ma domenico ci ha portato Ha voluto per forza insestito Infatti io non mi sono accorta di niente Come sempre Volevo un giudizio da parte loro Allora adesso andiamo a fare La spuma al mascarpone Quindi questa crema al mascarpone Tipica del tiramisù Che renderà la crema inglese Un po' più densa Allora Adesso cosa facciamo? Allora andiamo ad aggiungere La crema inglese La crema inglese Fredda ovviamente 250 grammi di crema inglese Cioè quella che abbiamo fatto Poi La panna La panna 125 grammi di panna E il mascarpone fresco E 250 grammi di mascarpone Che il nostro Vincenzo Ha abilmente lavorato Con una spatola Quindi non lo prendete E buttate così Come facciamo noi sempre Si lavora prima Poi Allora Quindi versiamo La crema inglese Quindi crema inglese Mascarpone E panna Quindi 250 grammi Di crema inglese 250 di mascarpone 125 grammi Di panna Fresca Sempre E poi aggiungiamo Il mascarpone E dobbiamo frullare Allora Sì Andiamo a mixare Con un mix Ecco qui Pronto Giusto? Perfetto Ecco qui Quindi abbiamo ottenuto La nostra Spuma Ora Per diventare spuma Si Ci occorre Inserirla All'interno Del sifone Ah il sifone Ma chi non ha il sifone Che fa? Allora Chi non ha il sifone Possiamo Aggiungere quindi La parte Di panna liquida La possiamo montare Semilucida E andiamo a Miscelare Quindi all'interno E mescoliamo tutto E mescoliamo tutto Da basso verso l'alto Tutta la parte liquida Allora Guarda io Prima che mettiamo questo Nel sifone Vorrei far vedere Solo questo Vincenzo Quindi questo È il biscuit pronto Quindi il biscotto Che abbiamo preparato Che voi potrete Utilizzare anche Per altri dolci A casa Semplicemente Prendete Il tagliapasta Il coppapasta E si va Il coppapasta A coppare E si fanno Dei cerchietti Benissimo Ecco Si fanno quindi Dei dischetti Che poi serviranno Come base del dolce E vorrei far vedere Anche Le nocciole Che abbiamo Pralinato Queste si dice Sono tostate Sì L'abbiamo tostate Con lo sciroppo di zucchero Quindi l'abbiamo anche Ecco E queste Si lavorano Aggiungendo Il cioccolato Bianco E quindi Si lavorano Bene bene In una ciotola Insomma Dovete ripassare Questa ricetta Va ripassata Perché sono tante ricette Quindi mi raccomando Riguardiamo insieme Tutto il riassunto Per il tiramisù Al caramello E nocciole Seguite tutti questi procedimenti Per il caramello Al caffè Fate caramellare Lo zucchero In un tegamino Unite il glucosio In polvere Poi unite La panna bollita Poi aggiungete Il caffè solubile Il caffè in polvere E lasciate raffreddare Unite il burro E mescolate Con un frullatore Ad immersione Lasciatelo da parte Per il biscuit al cacao Montate le uova Con lo zucchero Poi Aggiungete Il miele I semi di vaniglia E l'acqua Unite anche Il cacao E la farina Setacciati Mescolate Delicatamente Con una spatola Dal basso Verso l'alto Versate il tutto In una teglia Rivestita con Carta forno Spalmate Il composto Con una spatola In modo da ottenere Uno spessore Di circa Un centimetro E cuocete A 220 gradi Per 6-7 minuti Fate la bagna Al caffè Mettete In un pentolino Sul fuoco L'acqua Con lo zucchero E poi Quando lo zucchero Sarà completamente sciolto Togliete dal fuoco E aggiungete il caffè Continuando a mescolare Fate raffreddare Completamente La bagna Al caffè Per le nocciole Pralinate Fate uno sciroppo Di acqua E zucchero Mescolatelo Molto bene Alle nocciole E fatele tostare In forno A 180 gradi Fino a doratura Poi fate raffreddare Le nocciole E lavoratele In una ciotola Insieme al cioccolato Bianco Fuso E tiepido Mescolate Mescolate Energicamente In modo da rivestire Ogni singolo Granello Con il cioccolato Bianco Preparate la crema Inglese Mescolate Il tuorlo Con lo zucchero Un pizzico Di sale E aggiungete Il latte E la panna Caldi E le bacche Di vaniglia Poi fate addensare Sul fuoco Aggiungete Alla crema Il mascarpone E la panna Emulsionate il tutto Versate in un sifone Con una carica di gas A questo punto Dovete assemblare Il tiramisù E poi Quindi Le nocciole Passate appunto Con il cioccolato Bianco Diventano così Questo è il risultato Finale Questi sono I biscuit Che abbiamo fatto La bagna E il caramello Salato Al caffè Che Vincenzo Ha messo In questo Contenitore Di plastica Dosatore Dosatore Di plastica Facilmente trovabile Insomma Comunque Lo potete Potete Utilizzarlo Come Come volete Quindi qui abbiamo Il caramello Salato Al caffè Dobbiamo pensare All'assemblamento Del tiramisù Però Don Domenico Vogliamo leggere Prima il vostro Pensiero Sampio Siate Allegri Sii Sempre Allegramente In pace Con la tua Coscienza Riflettendo Che ti trovi Al servizio Di un padre Infinitamente Buono Che per la sola Tenerezza Scende fino Alla sua Creatura Per elevarla E fuggi La tristezza Perché questa Entra nei cuori Che sono attaccati Alle cose Del mondo Padre Pio È stato Un mistico E come Tutti quanti I mistici Possiamo dire Che Il loro pensiero È molto profondo No? Però Io Lo voglio Ridurre Diciamo Nel modo Più Semplice Quindi voglio Arrivare Al dunque Perché Padre Pio È stato Mistico Ma anche Profondamente Umano E Dio Vuole Che Tutti noi Viviamo Su questa Terra In modo Allegro Contenti Con la gioia Con il sorriso E Padre Pio Ci dice In questo pensiero Di fuggire La tristezza Ma se pensiamo A San Giovanni Bosco Che cosa insegnava I suoi ragazzi Siate allegri Perché L'allegria È il principio L'inizio Della santità Quindi Con allegria Vi facciamo vedere Come si fa Il tiramisù Di Vincenzo Cinardo Della Pasticceria Vabbè Pasticceria Della pasticceria Ariston Dolci Di Mazzarino In provincia Di Calcanissetta Come si fa? Allora Iniziamo Ad inzuppare I nostri Quindi I biscottini Tenete sempre presente Che si tratta Di tante piccole ricette Oggi Vi abbiamo fatto vedere Tante piccole ricette Che andranno a formare Una sola ricetta Quindi Allora Li andiamo Li sistemiamo in così In tale che ce li abbiamo Già pronti Quindi in una pirofila In un contenitore Per non sporcare E li andiamo a bagnare Con la nostra bagna Al caffè Con la bagna Al caffè Si bagnano I biscotti Allora lo facciamo pure noi Che ci siamo procurati Tutti gli ingredienti Sì 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 Mi pare che sia così Giusto? Riescono sempre Ottenere tutto Ma siete incredibili Peppe Eh? Questa è scomposta Com'è questo scomposto Questo tiramisù scomposto? Gli ingredienti Presi una alla volta Mangiati Ma posso confessare una cosa? Posso confessare? Mi sono quasi finite Alle granelle Con il cioccolato bianco Allora abbiamo fatto bene Anche solo quelle Un dolce Signore mie Fate le nocciole pralinate Ed è già un dolce Per sé Non sarebbe arrivato nulla qua Lo sappiamo Ecco perciò ve l'ho tenuta segrete Poi Poi prendiamo la spuma E andiamo a fare un primo E facciamo un primo strato Poi Procediamo a mettere il biscottino al caffè Sì Chi è? Peppe? Ma avete fatto paura? No Siete curiosi di vedere come si assemblano le ricette? Sì sì Poi soprattutto quando è finita Dobbiamo subito intervenire Peppe Ho capito che i tempi Prendete subito una cucchiarella Per darle in testa a Peppe Quindi lui tramortito Io assaggiatrice Unico rimasto Anche a Sandra Anche a Sandra E poi? Riveliamo un po' Un altro strato di biscotto Un altro biscotto Quindi strati di biscotti e di crema Andiamo a completare con il nostro caramello Caramello Il mio preferito Mamma mia che meraviglia Vincenzo non abbiamo parole E poi completiamo con le nostre nocciole pralinate Che già solo quelle ho detto valgono il dolce E per finire E per finire Cosa mettiamo? Cacao Bravissima Tiramisu Senza cacao Che tiramisù è? Non è tiramisù eh Me lo mappo io E allora Ciao Peppe E allora ringraziamo Vincenzo Cinardo Per averci mostrato la bravura di un vero pasticcere Oggi puntata speciale di quel che passa il convento Con un tiramisù che contiene 50 ricerche Non lo so quante ne abbiamo fatte E allora grazie ai nostri assaggi a voi Grazie a voi Grazie a Don Domenico E a tutti voi Alla prossima ricetta Arrivederci Non me la rubare Peppe Grazie a tutti